Il 10 di dicembre si è celebrata la giornata mondiale dei diritti umani a Barletta, nella galleria del Teatro Curci, associazioni unite per ricordare la proclamazione della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e informare sulle continue, purtroppo, violazioni. Giornata mondiale per i diritti umani, un pomeriggio organizzato qui a Barletta, in che cosa consiste? Guarda, siamo un gruppo di volontari, varie associazioni che per tutto l'anno si dedica esclusivamente alla tutela dei diritti umani, chi in un modo, chi in un altro. Abbiamo deciso di passare insieme questo pomeriggio, perché non era proprio possibile oggi, che è appunto la giornata mondiale, farla passare come se nulla fosse, visto che appunto, come ti dicevo, come Uniti per i diritti umani, Ambulatorio Popolare e Save the Children si occupano tutto l'anno della tutela dei diritti umani. Una dichiarazione universale sui diritti della persona adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948, le cui violazioni però sono ancora quotidiane. Quando si parla di diritti umani e della carta universale dei diritti umani, le persone hanno una strana concezione. Chi conosce il documento? Si pensa sempre alle grandi stragi, alle guerre, ai prigionieri politici, alle disavventure. Non ci si rende conto che la violazione dei diritti umani è costantemente ormai palese nella vita di ognuno di noi, perché se si conoscessero i diritti umani si saprebbe che si ha il diritto al lavoro, si saprebbe che si ha il diritto alla casa, si saprebbe che si ha il diritto all'assistenza, agli spazi, alla vita, all'istruzione. Se tu riesci a trovare degli ambiti sociali in cui questi diritti sono rispettati, chapeau. Tra le associazioni aderenti è anche Save the Children, che da 100 anni si occupa di tutela dei minori. Diritti sono violati anche in paesi occidentali come l'Italia, dove si pensa che i bambini siano più protetti, più tutelati. Soprattutto, ripeto, nelle periferie e anche in Puglia ci sono queste violazioni di diritti dei bambini. I bambini prima di tutto hanno bisogno della tutela, della protezione e del diritto anche a esprimere l'opinione, il diritto ad ascoltarli e spesso noi adulti non solo pensiamo di anteporci a loro e di capire cosa loro vogliono, ma a volte diventano da soggetti di tutela e soggetti di diritti inviolabili, come quelli della persona e dell'uomo, diventano oggetto di grandi violazioni. La sfida della tutela dei diritti umani e anche dei diritti dei minori è proprio quella di operare a favore loro, combattendo in primis le povertà educative.